Dallo striscione alla polemica sul giornalismo. Il fatto, nel caso specifico, parte domenica scorsa dalla pezza esposta dai tifosi del Molfetti in occasione del derby valido per la tredicesima giornata di eccellenza, tra la squadra bianco-rossa, seconda in classifica da Vigor Trani e altra bellissima realtà di questo campionato, in piena lotta per un piazzamento play-off. L'epiteto mostrato dai sostenitori Molfettesi è stato riportato dal giornalista Vito Prigigigallo il giorno successivo, cioè ieri, in un suo articolo pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Non hanno gradito i tranesi che hanno replicato con uno striscione. Non ha gradito anche il primo cittadino, Amedeo Bottaro, commentando la vicenda con un post su Facebook. Un'uscita di pessimo gusto. Trani e la sua gente meritano rispetto. Tutto esagerato? Dall'inizio alla fine? Forse. Non ci sentiamo di escluderlo. A chiudere la vicenda, intervenendo proprio sul post del sindaco Bottaro, è stato lo stesso Prigigallo, collega che da circa vent'anni racconta le vicende del calcio dilettantistico pugliese. Ha chiesto scuse ai tranesi e non era sua intenzione di essere offensivo nei loro confronti. Ho provato a raccontare il pallone, sottolinea il cronista, con metafore attraverso le voci che popolano il calcio nostrano. Nulla contro i tifosi biancazzurri la città di Trani ha voluto sottolineare Prigigallo, che avrebbe messo in risalto lo striscione anche se avesse assistito ad un altro derby tra altre squadre e in altre regioni. È stata pura gogliardia per il giornalista, insomma. L'hanno definita un'uscita evitabile ed inopportuna i tifosi del Trani. Grazie.